Questa partita l'abbiamo persa noi, abbiamo gestito la partita fino alla fine, non abbiamo segnato però i tiri che dovevamo segnare, quello forse è mancato, perché alla fine abbiamo eseguito tutto bene, alla perfezione fino alla fine e poi se in quei tiri non entrano poi la partita si decide in quegli episodi, come uno che tira a metà campo o per esempio quello che è successo con gli arbitri. Non lo so, sinceramente, non ci ho fatto caso se era a canestro buono o no, perché alla fine non è giusto fare polemica, nel senso dobbiamo pensare a quello che abbiamo sbagliato, a quello che non abbiamo fatto e secondo me abbiamo giocato bene, comunque l'abbiamo gestita bene la partita fino alla fine e non sono entrati certi tiri che dovevamo segnare, poi alcuni tiri è quello, però secondo me non non è caso fare polemica. Grazie. 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 Grazie.